Cominciamo subito con la nostra pagina dedicata all'attualità in tema di Covid e più attuale del vaccino in questo momento. Non ce n'è ed è proprio su questo punto che si apre il nostro Tg perché ieri è stato siglato l'accordo con le associazioni dei medici di medicina generale, medici di base o di famiglia come preferite chiamarli, perché vengano coinvolti proprio nella somministrazione dei vaccini. Si sono stabiliti alcuni punti fermi e poi questo accordo finalmente è arrivato in questo modo. Sicuramente la campagna vaccinale potrà essere potenziata. Ce ne dice qualcosa in più da Chieti, Massimo Profeta, che è in diretta con noi e soprattutto ha un ospite, che è proprio il segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Giusto Massimo, mi senti? Sei con il dottor Franco Pagano? Sì, grazie Marina per la linea. Dunque ieri l'accordo tra la Regione e i sindacati dei medici di medicina generale, un accordo importante del quale parliamo con Franco Pagano, che è il segretario regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. È un accordo importante, dicevamo, significativo, Pagano, perché in teoria dovrebbe imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale. Ecco, la base è volontaria. Possiamo prevedere oggi la percentuale di adesione? Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. L'accordo che è stato sottoscritto ieri con la Regione va inquadrato in quella che è la situazione generale italiana. È chiaro a tutti che per uscirne è necessario vaccinare il più possibile numero possibile dei cittadini e il più presto possibile. L'auspicio è che entro tre mesi si raggiunga almeno il 70-75% della popolazione vaccinata. In questo contesto è stato fatto l'accordo ieri della Medicina Generale. Anche la Medicina Generale vuole dare il suo apporto. In che modo? I medici di famiglia, i medici della continuità assistenziale, i medici dell'emergenza e i medici specialisti del corso specifico in Medicina Generale hanno dato la loro piena disponibilità a partecipare. Lei mi chiede in che percentuale? Io credo che vi sia la totale adesione dei medici di Medicina Generale, con l'eccezione di qualche medico che per problemi particolari o problemi di salute non potrà aderire. Ma credo che la partecipazione sia maggioritaria, sia unanime, sia completa. Come vaccinerete? Quindi diciamo l'arruolamento per così dire. Come avverrà? In che modo? L'arruolamento è collegato anche al dove, quindi dove vaccineremo e come vaccineremo. I medici di famiglia vaccineranno nei propri studi i propri assistiti, oppure potranno vaccinare i propri assistiti nei centri vaccinali. In più i soggetti fragili, cronici, cioè coloro i quali hanno impossibilità a deambulare, verranno vaccinati a domicilio. La restante parte dei medici di Medicina Generale, cioè i corsisti, i medici di emergenza, i medici di guardia medica, andranno ad effettuare la loro opera nei centri vaccinali con un rapporto ad orario. Come vaccineremo? Vaccineremo nel modo... Il target verrà individuato dal governo e quindi anche dalla regione, che di volta in volta ci dirà qual è il target di popolazione che noi dovremo vaccinare. Ad esempio arriverà la disposizione di vaccinare i soggetti 60-65 anni. Che succederà? Il medico di Medicina Generale riceverà l'elenco di tutti quei pazienti che hanno dato l'adesione, lo completerà perché farà un'opera proattiva, cioè per coloro i quali ancora non erano inseriti nella prenotazione, avrà un atteggiamento proattivo, cioè li inviterà a vaccinarsi, rienvierà l'elenco alla regione, al centro di chi dovrà poi dare i vaccini, gli verranno dati i vaccini e quindi il medico vaccinerà o nel centro vaccinale o nel suo studio. E' ovvio che in quell'elenco vi sono delle categorie che hanno la priorità, cioè i soggetti fragili, i soggetti impossibilitati avranno la precedenza su tutti gli altri soggetti. Perfetto. Franco Pagano, lei è stato molto chiaro, molto gentile e soprattutto disponibile. Ringraziamo di nuovo Franco Pagano, segretario regionale della Federazione Italiana Medici, Medicina Generale. Grazie per il supporto tecnico ad Andrea Bernardinelli, la linea può tornare a te Marina. Grazie, grazie Massimo Profeta e al tuo ospite.